Ciao a tutti, benvenuti nel canale in questa nuova stagione di Fortnite. Iniziamo subito con le guide senza perdere tempo. Iniziamo con raccogli anelli fluttuanti a brughiere brumose. Quindi precipitatevi a brughiere brumose per raccogliere questi quattro anelli sperando che la sfida non sia buggata perché altrimenti iniziamo in grande stile questa nuova stagione. Quindi scendiamo a brughiere brumose, qui, non potete sbagliarvi assolutamente e prendiamo gli anelli che dovrebbero essere quattro se non erro. Quindi prendiamo subito questi anelli che sono in bella mostra quindi non potete assolutamente non vederli perché eccoli qua, sono sui tetti. Questo è il primo, voilà, sì funziona, meno male che non è buggata la sfida. Questo è il secondo, vedete, ci sto andando sempre se non mi ammazzano. Lì giù c'è il terzo. Ecco il secondo. Ok. Andiamo a prendere il terzo. Spero che non finiscano i materiali o che mi ammazzino. Ecco qua. Il terzo anellino. Ce la faccio, sì, ok. E il quarto è lì praticamente, vedete ragazzi, è molto molto semplice, molto molto veloce, non potete assolutamente sbagliarvi. Facciamo una bella scalinata e voilà. Ci arrivo, sì. La prima sfida è completata. Grazie. Grazie. Grazie.